ma chi è che il mona che 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 batte la porta e che chiude urlando ah non lo so io casa nostra di domenica ci potevano queste creature chi sta non hanno fatto a casa può accucciare la dai a pigliare posso andare fuori scusami no no io posso andare fuori a me non me ne frega neanche se mi ammazzano perché la coscienza ce l'ho a posto cazzo lavoro 24 ore al giorno fatela finita cazzo a 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